Cari amici di AFTV, siamo nel gazebo della Villa Comunale con Samuele Rossi. Samuele, parlaci un po' di te. Che domanda, dove partire? È molto semplice. Niente, io... boh, che scursus. Io ho sempre voluto scrivere e poi dopo è venuto... direi come una prosecuzione naturale dello scrivere. Niente, ho pensato che... ho studiato molto, ho fatto l'università a Pisa, sono allaurato lì, ho pensato che fosse il punto giusto, non tanto Pisa, ma l'università a studiare lettere, che fosse il punto di partenza giusto per intraprendere un certo tipo di percorso e poi è venuto a Roma, insomma, Roma ha significato un po' la concretizzazione di tutta una serie di ambizioni, di stimoli, di riflessioni che stavo facendo da anni e Roma ha significato avvicinarmi a un mondo che era quello che volevo frequentare, ovviamente a livello artistico, a livello... sì, emotivo, umano, insomma. È stata la svolta perché ha rappresentato la possibilità di fare il mestiere, di poter focalizzare meglio gli obiettivi che volevo raggiungere e così è venuto il cinema, insomma, è venuto il film, è venuto l'inizio di quello che spero possa essere il mio lavoro e che di fatto è, diciamo. Allora, il tuo film fuori concorso è stato presentato l'altra sera durante, diciamo, la serata di gala del festival, La strada verso casa. Questo film, sappiamo che è del 2011, hai voluto raccontare un intreccio particolare di storie che però alla fine collimano. Spiegaci un po' meglio, diciamo, il perché di questo tipo di percorso e fin dove, diciamo, volevi arrivare attraverso questo percorso che vuoi far fare allo spettatore. Sì, diciamo che questo film non nasce con tre storie e il film nasceva da una mia esigenza di raccontare un certo tipo di tematiche che erano quelle del dolore, quelle della lontananza, quelle dell'assenza e c'era questa storia, questa storia di questi due fratelli che perdono il padre ed era la storia che ho iniziato a scrivere fin dall'inizio ed era l'unica storia. La prima stessura, la prima versione della sceneggiatura era incentrata totalmente su due fratelli. Poi, avendo io una predilizione particolare per l'intreccio narrativo, per una drammaturgia che prende su di sé strade diverse, che intreccia e che va a mettere insieme più storie, più percorsi narrativi, umani, emotivi, a un certo punto si è proprio l'esigenza di allargare lo spettro narrativo e di inserire altre due storie, che sono venute in modo molto naturale, sono state quasi una catena emotiva che si è andata a innescare dalla scrittura della prima storia e poi appunto sono arrivate le altre due storie. Emozione, sentimento, sei stato per caso ispirato da Mores Perros? Avevo evitato di ora di andare a fare citazioni o a dire punti di riferimento, perché poi è spesso, non tanto non è questione di presunzione, ma è questione poi di che ogni film poi nasce e diventa anche qualcosa di diverso inevitabilmente. È ovvio che ho un mio orizzonte filmico, ho dei punti di riferimento, indubbiamente in Arritu è uno dei miei, se non il mio direttore, il mio regista, stavo dicendo l'americana, preferito per il tipo proprio di cinema che fa e per il tipo di storia che racconta e soprattutto il linguaggio. È indubbio che quando oggi come oggi si affronta l'intreccio basato su una moltiplicazione narrativa, è evidente che il regista che oggi più di ogni altro affronta questo tipo di linguaggio e lo ha fatto e lo fa in un certo modo in Arritu, regista appunto di Amore Speros o 21 Grammi o Babel e non scordiamoci che dietro c'è Arriaga che è appunto lo sceneggiatore che poi va diciamo l'artefice principale di quella struttura narrativa. È indubbio che nel momento in cui io nel mio film sono andato a mettere con le mie collaboratrici poi tre storie andandole a intrecciare è stato inevitabile da una parte l'ispirazione ma dall'altra anche il confronto costante con il tipo di lavoro che Arriaga da una parte e in Arritu dall'altra vanno a svolgere sui loro film. Questa qui è la tua prima volta in Irpinia se sì, come hai trovato l'accoglienza del posto? Ti è particolarmente piaciuto questo luogo? Sì, non ero mai stato in Irpinia se non di passaggio e sono rimasto molto colpito il posto l'ho visto poco la mia è una valutazione più sull'impatto umano, emotivo, sulle persone il film ha girato diversi festival e devo dire che nonostante sia una prima edizione nonostante sia un festival organizzato anche, sì, come una prima volta da pochi mesi l'impatto è stato estremamente positivo le persone si sentono entusiasti si sentono energia si sente una voglia di creare qualcosa di nuovo e di farlo bene e questo penso abbia fatto bene alle opere presenti alle persone che sono venute e si riesce a percepire un percorso che possa andare avanti e spero appunto che non si fermi qui Allora, un ringraziamento a Samuele Rossi Samuele, vuoi salutare gli utenti di YouTube che ti stanno guardando su IFTV? Ciao ad IFTV e grazie per l'accoglienza